Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Fu Papius il fondatore del martinismo? Papius nel corso della sua vita terrena nacque alle nostre cose come ermetista e come pagano. Ne fa fede tra gli altri un articolo pubblicato nella Revue illustrée del 15 febbraio 1890 da Anatole Franz sotto forma di intervista in cui Papius difende un certo tipo di tradizione e di scienza ermetica trasmessa non solo da frammenti di testi ermetici ma dalle e nelle società segrete. Anatole Franz così espone il pensiero di Papius La magia è di un largo sincretismo. La scolasticità vi riconosce i suoi metodi di ragionamento. Hegel la sua tesi dell'identità dell'idea e dell'essere. Kant il suo imperativo categorico. Schopenhauer la sua teoria della volontà diretta verso un ottimismo assoluto. Non parlo affatto di Platone perché la magia è una specie di neoplatonismo che germoglia la dottrina della realtà delle idee fino a sostenere che una idea può andare a spasso per i boulevard con il bastoncino in mano fumandosi una sigaretta o venire la notte mentre voi dormite e togliervi delicatamente il cuore per rimpiazzarlo con una spugna. Il nostro Papius, continua, è platonico come lo fu Apuleio. Ebbene, dopo una conversazione con Papius ho gridato involontariamente È Apuleio! Anatole Franz non era uno stupido ed uno sprovveduto e se descrive così Papius un anno prima del risveglio del martinismo Papius era un buon adepto delle arti magiche pagane Ed invece, verso la fine della sua vita attratto dal magnetismo del maestro Filippo divenne un cristiano convinto tanto che sembra fosse sua intenzione sciogliere addirittura l'ordine martinista e trasformare i superiori incogniti in altrettanti samaritani incogniti A questo punto dovremmo necessariamente dire un secondo no e chiarisco il perché Nessuno nega ad alcuno la libertà di scelta Noi che siamo in realtà dei vagabondi spirituali siamo i primi a difendere anche le scelte più strane e le scelte, come dire, involute Ma se riconosciamo questa libertà a chiunque e quindi anche a Papius non per questo dobbiamo continuare a ritenere che l'essenza del martinismo moderno come si va dicendo da qualche parte sia tutta contenuta nei suoi scritti Se è vero, come è vero che nelle opere di Papius è contenuta una larga messe di informazioni di documentazioni e di divulgazioni valide ed utili per la formazione del martinista Tuttavia non possiamo in piena coscienza affermare che il martinismo papiusiano sia il martinismo di tradizione tanto più che oggi ha subito un'ulteriore evoluzione peggiorativa con l'accentuazione del misticismo di tipo inferiore della venerazione del maestro Filippo Maître Filippe con la recita del pater come forma operativa di cui sottoscriviamo gli altri insegnamenti in esso contenuti eccetera A mo' di esemplificazione cito qualche frase di Papius Occorre ricordare che la potenza invisibile viene dal Cristo Dio incarnatosi attraverso tutti i piani e perciò non bisogna entrare nel piano invisibile con un essere astrale o spirituale che non confessi il Cristo in questo modo Trattato elementare di scienza occulta Commento Oggi anche la chiesa romana onora Buddha e Maumetto O anche È a San Martin stesso che l'ordine è debitore non solo del sigillo dell'ordine ma anche del nome mistico del Cristo che orna tutti i documenti ufficiali del martinismo Occorre veramente la malafede di un clericale per pretendere che questo nome sacro si rapporti ad un'altra persona diversa da nostro Signore Gesù Cristo il Verbo Creatore Commento Tutti sanno che il nome non si riferisce a Gesù Cristo ma ad un'altra significazione Ed ancora Il terzo carattere del martinismo è di essere cristiano Il martinismo difende l'azione del Cristo illuminatore della razza bianca su tutti i piani Il figlio di Papius Philippe rincara la dose Il martinismo è una cavalleria cristiana o, se si preferisce è una linea cavalleresca di perfezionamento individuale e collettivo Su questa storia della cavalleria cristiana del cristianesimo e del misticismo è il motivo su cui si è sviluppata l'azione del martinismo papiusiano dal 1960 ad oggi E ciò non può trovare ovunque consensi per la preminente ragione che sia l'iniziazione sia la tradizione non possono scendere a compromessi Il martinismo non è una cavalleria né ha tradizioni cavalleresche e, se si vuol pignoleggiare queste si trovano esclusivamente nella tradizione willermozista e cioè nei cavalieri beneficenti della città santa di Gerusalemme Quanto al cristianesimo del martinismo di tradizione occorrono molti distingue ed occorre soprattutto oggi non equivocare sull'habitat in cui agì Martinez de Pesquelli quando iniziò il suo lavoro Per quanto concerne poi il Cristo visto come Dio in carne ed ossa occorrerà rimandare alla critica storica ben altro discorso deve esifare per il Cristo mitico ed iniziatico che comunque ben poco ha da vedere con quello dei mistici papiusiani contemporanei Tutte queste ragioni espresse in breve necessariamente ci portano a sottoscrivere in pieno quanto il gran maestro del martinismo svizzero Grand Maître Trippé ebbe a rispondere ad una circolare di Papius figlio del 5 aprile 1968 con la quale si obbligavano i martinisti primo alla credenza nella divinità del Gesù Cristo secondo alla recita del Pater nelle riunioni di gruppo nella lettera in risposta detta circolare del 14 aprile 1968 il Trippé dava una esauriente risposta delle ragioni che lo portavano a non accettare tali imposizioni la lettera è lunga ed è a disposizione nel nostro archivio per quanti ne abbiano diritto ma ci piace qui riportare alcune frasi a sostegno delle nostre tesi già da qualche anno delle credenze estranee al vero pensiero martinista si sono introdotte nell'ordine tra queste segnaliamo il culto reso da certe persone al signor Filippo di Lione questi a suo tempo fu un rimarchevole taumaturgo ma non fu mai membro dell'ordine e non ebbe relazione con il martinismo se non attraverso Papius noi lasciamo liberi coloro che desiderano far rivivere il suo ricordo come più sembrerà loro opportuno ma in ogni caso fuori dai gruppi martinisti e infine abbiamo anche potuto constatare che le opere di Papius sono differenti nelle edizioni posteriori alla sua morte la comparazione con le edizioni originali è semplice certi capitoli sono stati soppressi soprattutto quelli concernenti la massoneria ci sembra ormai il caso di trarre delle conclusioni Papius non è l'unico fondatore del martinismo moderno anche se è stato l'ideatore del suo risveglio e il principale organizzatore e divulgatore quanto al martinismo che si ispira a lui potremmo identificare due fasi la prima ci appare sicuramente valida poggiando su basi iniziatiche e tradizionali la seconda ci appare marcatamente turbata da una degenerazione mistico devozionale che precipita successivamente ai nostri tempi a livelli pressoché profani a questo punto è nostro dovere riaffermare il carattere iniziatico e tradizionale del martinismo distinguendolo dalla confusione e dal depauperamento che gli uomini inevitabilmente apportano alle cose che usano anche se belle se Papius ha i suoi meriti indiscutibili ed eccezionali e noi glieli riconosciamo tutti non possiamo riconoscerci nei suoi samaritani incogniti quanto meno nei devozionisti del signor Filippo un conto è l'agnosi anche quando viene tradotta con un linguaggio comprensibile ai cristiani un conto è il resto ben altrimenti diceva un altro dei fondatori del martinismo moderno nel 1889 in un suo discorso iniziatico e intendiamo far riferimento a Stanislau De Gaeta così affermò che tutti creda materialista o spiritualista o idealista che tu faccia professione di cristianesimo o di buddismo che tutti proclami libero pensatore o che affetti anche lo scetticismo più assoluto poco ci importa dopo tutto noi non urteremo i tuoi sentimenti ne sconvolgeremo la tua mente intorno a problemi che tu non devi risolvere che al cospetto della tua coscienza e nel silenzio solenne delle passioni dominate io confesso la divinità di Cristo Spirito io professo il cristianesimo universale ed ancora scrivendo all'amico Joseph Paul as world to earth a proposito del misticismo così comunicò ma quando al di sopra dell'alta dottrina dei magi voi ponete il misticismo questo mi sorprende l'ermetismo è una sintesi radicale assoluta precisa come la matematica e profonda come le leggi stesse dell'esistenza è una dottrina netta ferma è una scienza circondante le altre dottrine ed atta ad inglobarle tutte in se stessa e il misticismo che cosa è? è una dottrina? è un sistema? è un'ipotesi? no è una tendenza del pensiero niente di più uno stato d'animo e di spirito che facilita o ingarbuglia e su ciò non vi sono dubbi se volete sottolineare una preferenza della vostra natura per il sogno o la preghiera relegando in secondo piano la scienza o il pensiero mi guarderò bene dal dissuadervi ciascuno per temperamento ha le sue preferenze le sue idee religiose estetiche eccetera e se voi siete portato per natura alle belle sognate dei mistici alle estasi passive della contemplazione alle ferventi volute della preghiera sarete in gran torto se forzerete le vostre tendenze ormai deviate verso un fine che non è più calcolabile nel bilancio del vostro avvenire intellettuale dunque sognate e pregate la vostra parte sarà bella e voi non avrete a pentirvene ma per chi ha forzato il tabernacolo della natura e conquistato a pericolo della sua vita e della sua ragione l'intelligenza degli arcani nessun destino gli sembrerà più valido di quello di proseguire nella scoperta delle leggi supreme non possiamo riportare tutta la lettera citata da Word ma ci sembra che quanto trascritto sia sufficiente per una ulteriore meditazione grazie grazie a tutti